Santa Veronica capitolo terzo La sua esperienza mistica in Gesù sofferente È il Signore che le traccia alla strada e le infonde il desiderio di soffrire come Lui ha sofferto per noi sulla terra. All'età di sette anni, per due volte, durante la settimana santa, Gesù le appare coperto di piaghe, esortandola ad essere devota della sua santissima passione. La seconda volta, quando mi comparve il Signore così piegato, mi lasciò così impresse nel cuore le sue pene e dolori, che io ad altro non pensavo, e come potevo ritirarmi in qualche luogo. Piangevo di molto e facevo qualche patimento, ma senza coniezione nessuna. Dopo quelle due esperienze, tutta la vita di Orsolina diventa una continua ricerca nel patire per amore di Gesù. E questa è proprio la vocazione specifica di Orsola, seguire le orme di Cristo, in modo particolare del Cristo che si offre al Padre per la salvezza dei peccatori. Gesù stesso lo vuole per sé e la prepara a diventare una vera sposa del crocifisso. Mi sentivo delle volte tanto bramo dal patire, nel sentire leggere le vite dei santi. Avrei voluto fare tutto quello che essi facevano. Mi pare di ricordare che mentre dicevo così, sentivo certa voce nel cuore, che come eco replicava. Sta posata, che sarei mia. Queste voci interne le sentivo spesso, ma io come semplice e ignorante non capivo nulla. Tuttavia lei, in qualche modo consapevole, che deve collaborare con le ispirazioni, che la grazia le infonde, perché sempre l'umanità mi tirava qualche passatempo, ma che non sentivo nessun piacere, che subito non avesse rimorso e rimprovero internamente. Sentivo un non so che in me, che mi destava sempre più di levare via da me ogni intoppo. A ciò, una volta potessi essere tutta di Dio, avevo brama di farmi monaca, e questa mi ricordo, che l'ho avuta sempre.